e quindi iniziamo creando un piccolo progetto d'esempio su cui poterci esercitare con queste cosette in javascript quindi crea un nuovo progetto vuoto poi dopo lo butteremo via e inseriremo queste cose in realtà nel progetto del sito del corso. Una applicazione web la chiamo esercizi javascript intanto per dargli un nome e come sempre dovrò creare una pagina html che contenga qualcosa all'interno della quale inserirò richiamerò il codice javascript che voglio eseguire allora se vogliamo copiare quello che vi ho fatto vedere prima questa pagina la chiamo calcolatrice e la pagina conterrà magari un solo una sola casella di input che ne so name uguale valore gli do un valore iniziale value uguale 0 seguito da un altro paragrafo in cui ci metto magari la mia parolina incrementa questo lo sto creando come se non sapessi che ci devo fare che ci devo aggiungere dei gestori di eventi o del codice javascript questo non fa altro che creare una pagina che contiene una casa di testo e una parolina scritta sotto finora è puro html non c'è ancora niente dopodiché per poter aggiungere un comportamento dinamico come minimo devo richiamare uno script quindi un file javascript che contiene delle funzioni da me definite quindi devo richiamare uno script nella intestazione lo faccio nel led del documento e i due attributi principali del text script sono type uguale text barra javascript e source uguale il nome di un file javascript da richiamare in questo caso è solo un progettino di prova quindi lo metto nella stessa directory lo chiamo calcola.js barra script attenzione alla sintassi script barra script con niente in mezzo normalmente quando dobbiamo chiudere un tag immediatamente dopo vale anche la sintassi semplificata così così come facciamo per la casa di input non c'è nulla da mettere tra input e barra input quindi faccio una chiusura implicita funziona con tutti i tag tranne che con il tag script con alcune versioni dei browser per cui è un bacco che uno presume che funzioni invece non funziona e si chiede come mai la pagina non carica il javascript ma perché alcuni tipi di browser anche recenti hanno bisogno proprio del tag aperto e chiuso esplicitamente se no non lo elaborano quindi usiamo così e poi dovevo creare per farci qualche cosa di utile il file calcola.js quindi nel mio progetto creo un nuovo file in questo caso lo trovo qua sopra per primo se no me lo vado a cercare negli other file javascript che chiamerò calcola.js calcola.js l'espressione viene messa da sola quindi a questo punto io so che nella mia pagina web viene automaticamente incluso questo file calcola.js in cui posso scrivere le azioni che voglio che vengano compiute a seguito di eventi causati dai movimenti dalle azioni dell'utente e questo lo posso fare definendo tante funzioni e poi associando le funzioni agli eventi generati quindi chiamiamo una funzione premuto ad esempio che faccia una cosa molto semplice che dice è stato premuto un tasto questa è una funzione che quando viene richiamata apre una finestra di allarme nel browser con scritto dentro premuto quando io carico la pagina la ricarico non cambia nulla perché adesso il file javascript è stato letto è stato acquisito ho definito quella funzione ma quella funzione c'è nessuno che la richiama nessuno la sta richiamando nessuno la attiva per poterla attivare sarebbe necessario che in qualche elemento dell'html definisse un gestore di eventi a cui associare proprio la chiamata di quella funzione allora noi vogliamo che la funzione venga richiamata quando l'utente clicca sulla parola incrementa allora dove lo possiamo mettere quel gestore di eventi? lo possiamo mettere o sul p sul paragrafo che contiene incrementa oppure se non vogliamo perché il p ha la brutta abitudine che è largo tutta la pagina quindi se uno clicca anche a fianco della parola verrebbe preso e isoliamo la parola incremento dentro uno span ma qui aggiungiamo qui facciamo gli stessi ragionamenti che facciamo quando ragioniamo sui fogli di stile identifichiamo le porzioni di pagina che hanno un significato per noi allora quella parola incrementa per noi ha il significato di essere un bottone non lo sembra ma ha quel significato lì allora poi magari lavoreremo oggi non stiamo a complicarci la vita ma con i fogli di stile per far sì che quella parola incrementa abbia uno sfondo abbia una sottolineatura cambi la forma del mouse quando ci vado sopra e così l'utente capisce che si deve cliccare sopra ma in ogni caso il punto di partenza è rendere identificabile nell'HTML quella parolina lì ad esempio appunto con uno span span e barra span in fondo che delimitino la parola e gli diano un id ben preciso se vogliamo id uguale tasto oppure comando incremento oppure una classe ecco come siamo già abituati a fare per i fogli di stile marchiamo il codice spiegando che cosa servono le varie parti del codice a questo punto beh ovviamente aggiungere uno span non cambia non modifica minimamente di un solo pixel tutta la pagina quindi non è cambiato assolutamente nulla ma a questo punto possiamo aggiungere un gestore d'evento vedete che qua lui ci da in realtà ce ne sono molti di più di quelli che vi avevo mostrato quelli erano quelli principali gestore d'evento un click a questo span quindi questo elemento span a questo punto ogni volta che l'utente cliccherà sul contenuto di questo span in questo caso vedete che contiene solamente quella parola incrementa verrà eseguito verrà generato l'evento click questo evento verrà catturato dalla funzione che abbiamo chiamato mi ricordo già più premuto tutto qua l'integrazione dei gestori di eventi all'interno delle pagine significa mettere semplicemente i vari attributi on click on enter on exit quello che sia all'interno degli elementi quindi se adesso ricarico la pagina e se non ho fatto errori di sintassi da qualche parte se clicco su incrementa mi si apre una finestra di allarme e poi ogni browser questo la disegna in una forma diversa perché è la finestra del sistema operativo del browser col mio messaggio questa è una finestra molto antipatica noi non le vogliamo vedere mai le usiamo solo e esclusivamente per fini di debug perché ci bloccano l'esecuzione della pagina l'utente non può fare nulla finché non preme ok che è molto antipatico obbligare l'utente a fare una certa cosa premuto l'ok quindi quando viene eseguito questo alert si apre la finestra di allarme e il programma rimane bloccato fino a quando l'utente non fa ok quando l'utente fa ok la funzione prosegue non ha più nulla da fare ritorna al chiamante e finisce tutto lì quindi il meccanismo è relativamente semplice di attivazione io potrei addirittura dire ma no ma questo qua viene attivato semplicemente passandoci sopra senza neppure cliccare mi basterebbe dire che questo evento non è sul long click ma è sul long mouse over la mouse over è l'evento che viene generato quando il mouse entra in una certa area ricarico la pagina e io non tocco il pulsante del mouse ci passo sopra nel momento in cui entro nel box che delimita quell'elemento viene chiamata la funzione poi una volta finchè ci sono dentro mi posso spostare e non succede nulla quando esco e rientro riscatta e va bene dipende chiaramente dal tipo di evento che intercetto e dall'area ossia dall'elemento html sul quale lo intercetto ma in questo caso ha molto più senso il click ha solo senso il click adesso ciò che ci manca è di quindi cosa deve fare questa funzione premuto beh non farmi vedere l'alert chiaramente questo l'abbiamo fatto come primo passo ma la cosa vera che deve fare è andare a prendere questa casella di input di questa casella di input prendere il valore e incrementarlo ok allora incrementarlo è l'unica cosa che so fare cioè una volta che ho una variabile faccio più più e la incremento il problema è che questa funzione qua poveretta come fa a modificare il valore di quella casella là? deve accedere al modello oggetti DOM della pagina che contiene quel elemento di input allora per far questo dobbiamo imparare come è fatto questo modello oggetti DOM dove è quella presentazione? eccolo qua e è un modello relativamente ovvio nel senso che poiché l'HTML è composto da una serie di tag annidati l'uno dentro l'altro il modello oggetti corrispondente sarà fatto da un oggetto padre che è la pagina HTML che contiene due oggetti figli che sono le del body e dentro il body ci saranno gli oggetti figli che saranno i dir oppure i paragrafi che ci sono gli H1 che ci sono nella pagina all'interno di ciascun oggetto ci saranno dei figli a loro volta che sono i contenuti e così via quindi abbiamo una serie di oggetti che si richiamano tra di loro come un albero e la forma di questo albero corrisponde all'annidamento degli elementi dei tag nell'HTML i nodi di questo albero sono di due tipi in realtà di tre in questa figura ne sono mostrati solamente due questi qua che sono rettangolari e quelli che sono ovali quelli rettangolari corrispondono agli elementi ai tag dell'HTML e infatti si chiamano element il tipo di oggetto questi ovali sotto corrispondono invece al testo libero contenuto dentro la pagina quindi quando vedete questo td shady groove il testo non fa parte dell'elemento td ma neanche per i paragrafi ma neanche per lo span c'è l'elemento che rappresenta il td e il quale è padre di un altro elemento che rappresenta il testo il testo per sua natura non può avere figli non ha elementi al di sotto è la foglia è il livello terminale dell'albero gli alberi terminano praticamente tutti coi testi quindi due tipi di oggetti questo è un disegnino ma in realtà questi sono oggetti non istanze di oggetti l'oggetto element anzi dom element l'elemento del dom e l'oggetto text poi c'è un terzo tipo di oggetto vi dicevo che c'erano tre che è l'attributo in questo caso nell'html non c'è nessun attributo e quindi non abbiamo bisogno di oggetti tipo attributo ma fosse un'immagine image source uguale tale indirizzo source è un attributo e quindi avremo il nodo elemento image che corrisponde all'immagine il quale è collegato un altro nodo di tipo attributo che avrà il valore source uguale e l'indirizzo vero e proprio quindi dicevo è abbastanza naturale come modello la specifica del dom quello che noi chiamiamo dom è un modello standard che è per essere standard è indipendente dal browser ma addirittura anche indipendente dal linguaggio di programmazione che utilizziamo proprio perché è valido non solo tra l'altro non solo per l'HTML ma è valido in generale per qualsiasi documento XML quindi già che hanno fatto il lavoro l'hanno fatto per bene e quindi hanno definito una serie di oggetti perché di fatto il fatto che questi siano dei TD e dei T-body e non siano dei tag generici in XML non ci cambia nulla allora hanno definito un modo generale di rappresentare attraverso un albero di oggetti qualunque documento XML in particolare HTML e una serie di tipi di oggetti e di metodi di questi oggetti quindi hanno definito le interfacce astratte di fatto che poi verranno mappati sono mappabili su più linguaggi di programmazione diversi se andate a cercare in Java ci sono le librerie DOM che vi permettono di manipolare dei file XML o dei file HTML direttamente dalla pagina Java lavorando con gli oggetti noi non lo useremo no ma in alcuni casi se volete lavorare con XML è il modo normale di lavorare in JavaScript le librerie DOM sono la parte principale delle librerie di sistema sono fornite dal browser ma ci sono per ogni linguaggio di programmazione quindi vedremo dei dei tipi di oggetti che poi quando li andremo a concretizzare in un qualche linguaggio di programmazione avranno ogni linguaggio avrà qualche piccola differenza ma sono cose minori i concetti che impariamo lavorando col DOM in JavaScript sono esattamente gli stessi che potremmo riutilizzare in altri linguaggi e proprio per questa generalità in realtà il DOM è fatto di vari pezzi c'è un pezzo base che qui è chiamato il core che è valido per qualunque elemento HTML e poi c'è una parte invece più specifica che vale solamente per gli elementi HTML alcune cose che si possono aggiuntive che ha senso fare solamente se il file non è un file XML generico ma è un file HTML ne dico una per tutte un trattamento semplificato e speciale degli stili degli elementi CSS per poter modificare gli elementi il CSS degli elementi vabbè andiamo avanti questi sono ecco questi sono questo è l'elenco dei tipi di oggetti del modo in cui possono essere i dati come libreria di classi c'è una classe astratta generale che si chiama node quindi è un albero di node ogni node a sua volta può essere di tipo document o di tipo element il principale è di tipo document quindi la radice di tutto è un nodo di tipo document questa sintesi mi dice c'è un nodo document che può contenere al suo interno elementi oppure process instruction comment document type ma a noi interesserà gli elementi elementi questo è per iniziare l'albero l'albero inizia con un nodo di tipo node scusate con un nodo di tipo document che in javascript si chiama proprio document c'è una variabile di distanza predefinita che si chiama document questo document contiene un nodo figlio uno solo che è di tipo element che sarà l'elemento html perché la pagina sarà sempre html bar html quindi contiene un element quell'element al suo interno contiene altri element quindi il nodo element conterrà add e body e poi add conterrà title e altre cose e body conterrà le sue cose quindi elementi possono contenere altri elementi oppure elementi possono contenere testo quando l'elemento a sua volta è uno span un p oppure qualche cosa che al suo interno contenga del testo e oppure attributi attr è il tipo di nodo per rappresentare gli attributi degli oggetti un modo di vederlo quindi questa è la notazione della prima figura che abbiamo visto un modo di vederlo è quello di usare ad esempio il nostro caro firebug o le altre developer tool del browser che utilizzate che a fianco dell'html che già conosciamo a fianco dello stile del layout che già conosciamo hanno una visualizzazione del DOM che ci fa vedere partiamo dall'alto dall'html dall'html le proprietà del nodo DOM che rappresenta questo tag html e in particolare mi dice che questo elemento ha un nome node name che si chiama html quindi il tipo di elemento è un nodo html ha dei nodi figli children ne ha due children è un attributo di html che di fatto è un array un attributo di tipo array questo array ha una lunghezza pari a 2 e il primo elemento di questo array è di nuovo di tipo elemento e in particolare l'elemento head il secondo figlio è il body quindi io qua posso navigare andare sull'altro elemento body che ho qua che è un altro elemento tipo html vedete che il node name qua sotto questa volta è body non è più html il body a sua volta contiene andiamo a vedere il child nodes child element count contiene 4 figli e quali sono i figli sono questi sono un h1 un p un p e l'ultimo dice undefined perché in realtà sono degli spazi vuoti andiamo a vedere il body effettivamente continua un h1 un altro p un altro p questo p a sua volta se vado a vedere vedete che qua sto espandendo l'html e a destra sto espandendo questo p sto espandendo il DOM corrispondente questo p a sua volta come figli all'elemento di input questo elemento di input a sua volta dopo un attimo ci siamo già persi ovviamente se lo aggiungiamo così però per vedere che stiamo entrando nell'albero questo elemento di input non ha figli perché dentro input non c'è nulla non c'è input qualche cosa barra input non ha figli ma ha degli attributi infatti andiamo a vedere attributes che è qua e ce ne sono tre il primo attributo quindi è un nodo questo è un nodo di tipo attribute è tipo type uguale text il secondo value uguale 0 il terzo name uguale valore quindi da ogni nodo mi posso spostare io qui mi sto solo spostando finora mi sono spostando solamente dalla radice verso le foglie mi posso spostare sui nodi adiacenti quindi da un nodo da un elemento andare ai nodi figli attraverso questi children andare agli attributi attraverso gli attributes e poi ho tutta una serie di metodi standardizzati perché il bello è quello standardizzati per poter navigare nel DOM e qui mi fa vedere questa è la specifica presa dalla specifica del DOM dal V3C di come è fatto di come sono fatti i nodi il nodo di tipo document che è quello principale quello che è la radice radice in alto dell'albero contiene dei metodi tra l'altro qui ci sono dei metodi tipo create che ci fanno capire che in javascript riusciremo a creare degli altri nodi del DOM se ci serve quindi far crescere quest'albero ma sicuramente ha un metodo che qui ho mostrato in grassetto get elements by tag name mi serve per ricercare degli elementi all'interno del DOM ma quelli che abbiamo visto prima invece non erano nodi tipo document ma erano nodi di tipo element nodi di tipo element hanno anche loro una serie di metodi get attribute set attribute eccetera e poi qui non sono mostrate le c'è il tag name che dice che tipo di tag è e qui non sono mostrate gli attributi di tipo padre figlio che abbiamo visto prima allora queste sono specifiche generali in javascript ci sono sulla destra indicati diciamo gli elementi del linguaggio i nomi delle variabili da utilizzare per esempio document con la minuscola che corrisponde al nodo di tipo document con la maiuscola e così via qui parlava di node list ci sono delle funzioni che restituiscono un elenco di nodi in javascript questo viene mappato su un array no? in generale nella specifica del DOM fa vedere un generico metodo di accesso in javascript è stato mappato su array quindi al di là della specifica del DOM che è trovato leggibile perché da tutte le definizioni il modo più comodo è usare direttamente il browser per almeno familiarizzarsi le prime volte su quelli che sono tutti gli attributi che ci servono allora noi cosa volevamo fare noi? noi volevamo prendere questo valore value uguale 0 e modificarlo ok? quindi andiamo a vedere com'è fatto questo nodo questo nodo input ha tutte queste proprietà adesso cerchiamo di vederle non dico tutte ma quasi che sono elencate qua ce ne sono decine in particolare per chissà cosa cerca c'è una proprietà che si chiama value che è già una property di questo nodo che vale 0 quindi noi il nostro lavoro alla fine significherà andare a prendere questa proprietà value di questo nodo e incrementarla da 0 farà diventare 1 questo è un modo diretto in realtà questa proprietà value non è altro che una scorciatoia che ci fornisce la libreria DOM per non dover andare a cercare tra gli attributi del nodo qual è quello il cui il cui il cui node name è proprio value e andare a prendere node value il posto giusto che dovremmo modificare è questo node value 0 corrispondente a questo node name dentro il nodo di tipo attribute il secondo in questo caso nodo di tipo attribute del mio elemento di input e più esiste questa scorciatoia dell'attributo value che da solo va a pescare quello quindi per fortuna chi ha creato queste librerie ha creato delle scorciatoie sotto forma di attributi che ci permettono di modificare più velocemente le cose più frequenti poi se vogliamo possiamo andare a prendere tutto ma molto spesso e questa è una caratteristica di javascript il codice javascript può aggiungere degli attributi anche dei metodi si fa più di rado ma può aggiungere degli attributi a runtime agli oggetti esistenti è come se noi in oggetto java a un certo punto quando lo stiamo usando gli aggiungiamo una variabile non possiamo quelle sono state definite a tempo di compilazione visto che qua non c'è compilazione linguaggio dinamico il browser che cosa fa all'inizio? prende gli oggetti del DOM e poi inietta delle proprietà all'interno degli oggetti che esistono per renderci più facile l'accesso le proprietà che corrispondono in realtà poi dei valori veri che già ci sono ma le rende più accessibili allora noi sapremmo cosa fare se solo avessimo un riferimento una variabile che punta a questo oggetto qui perché una volta che ho una variabile che punta a questo oggetto proviamo a dire queste cose in javascript anziché a parole questo qua fatemelo commentare allora io ho avuto una variabile che è il mio campo di input che dovrò in qualche modo fare in modo che punti all'element del DOM che corrisponde al campo di input questo non lo so ancora fare ok una volta che avessi questa variabile è facile perché io posso prendere il valore come input.value l'attributo value di input incrementare il valore e poi rimetterlo a posto mettendogli il valore incrementato è ovvio che potrei fare tutto in un'istruzione sola input.value più più ma qui per far vedere i vari passaggi se qualcuno mi desse il riferimento a quell'oggetto e chi mi può dare il riferimento a un oggetto del DOM le funzioni di ricerca del DOM stesso le funzioni di ricerca quindi io questo qua fatemelo mettere come commento in realtà ciò che farò è chiedere alla alla radice dell'albero che è l'oggetto di tipo document document è un oggetto predefinito in tutti i browser quindi oggetto document oggetti element oggetti text oggetti attribute di document ce n'è uno solo e questo document oltre ad avere delle cose degli attributi ha una serie di getter che sono questi qua che ci interessano che di fatto lanciano una ricerca all'interno della parte di albero sottostante io posso chiedere al document e quindi lui mi cerca in tutta la pagina oppure posso chiedere a un div e lui mi ricercherà solamente gli elementi che lo contengono get element by id get elements by name get elements by tag name e basta questi sono i metodi di ricerca get elements by id element singolare by id come dice il nome mi restituisce un elemento se a quell'elemento nell'html era associato un id specifico e allora mi restituisce il riferimento a quell'oggetto lì nel mio html a quel campo di input non è associato purtroppo un nome specifico un id specifico scusatemi e quindi non lo posso usare ma magari aggiungiamo un id così lo riusciamo a trovare più facilmente gli altri metodi di ricerca sono i get elements get elements by name o by tag name andiamo a vedere la definizione get elements by name dice questo metodo ritorna la collection quindi potrebbero essere più di uno di elementi in cui il valore del nome è dato da questo element name in xhtml uno ritorna l'elenco degli elementi di input dei controlli dei form il cui nome corrisponde e la string il parametro che riceve è il nome del valore il valore dell'attributo name dell'oggetto quindi mi restituisce tutti gli elementi che hanno un attributo name uguale pippo potrebbe essere più di uno perché non c'è nessun requisito che l'attributo name sia univoco mentre e quindi per questo get si chiama get elements e non get element perché mi restituisce più di uno e non ritorna quindi un element singolo come faceva la get element by id ben si ritorna una node list un elenco di nodi oppure c'è quello più generale che si chiama get elements by tag name che è quello più generale che vale sull'xml adesso poi gli dice attenzione che alcuni tra l'altro a NetBeans nella documentazione da qualche parte si può impostare quale tipo di browser volete con quali tipi di browser volete essere compatibili e lui automaticamente vi cancella quelli che i metodi che non sono compatibili con alcune versioni di browser quindi questo qua in questo caso non lo potremmo utilizzare perché forse abbiamo richiesto la compatibilità con Internet Explorer 5 che è fine esagerata allora per prendere la soluzione più semplice la soluzione più semplice è quella di avere già un id che punta al nostro elemento altrimenti potremmo prendere getElementsByName col nome input lui mi restituisce tutti gli elementi di input e poi vado a cercare quello giusto in questo caso ce n'è uno solo in questa pagina ma in teoria potrebbero esserci più di uno vediamo semplifichiamoci la vita visto che è il primo esempio aggiungiamogli un id id uguale chiamiamolo display della calcolatrice displayCalc è il visore della mia calcolatrice questo gli ho dato un id e quindi questo mi semplifica il lavoro che deve fare questa funzione quando andiamo a ricercarlo basta semplicemente che vado a ricercare un getElementById di displayCalc ritornerà un oggetto di tipo element DOMElement su cui farò vado a prendere il valore corrente che in questo caso è 0 e viene trattato come numero se l'utente ci scrive dentro una parola invece sarà una string viene incrementato e viene sostituito quindi la logica è quasi sempre la stessa prima di tutto la prima metà del lavoro è far chiamare la funzione nel momento giusto quindi andare a intercettare l'evento giusto che mi serve sull'elemento giusto e questo lo faccio in HTML la seconda metà del lavoro è gestire l'evento e che a sua volta è divisa di solito in trovare i pezzi di pagina trovare i pezzi di pagina su cui intervenire e poi andare a modificare alcune proprietà degli stessi elementi proviamo a vedere se funziona ricarichiamo la pagina vado su incrementa provo a far click e non funziona allora qualcosa non va allora cerchiamo di capire perché con il nostro debugger allora in questi casi avrò sbagliato display calc il browser non ci dice niente display calc document .veglio a occhio non riesco a vedere strano il browser non ci dice nulla ma semplicemente non fa ciò che deve fare quando trovo un errore di sintassi un errore di programmazione chiamata di un metodo che non esiste eccetera semplicemente si ferma punto interrompe l'esecuzione lì non ci dice nulla da nessuna parte non c'è neanche il log ma per fortuna firebug invece è furbo e ha una sua un suo debugger interno che mi permette io ho attivato qua con questa funzionalità metti un break alla prossima istruzione di eseguire passo passo il codice javascript che ho richiamato quindi ho aperto firebug gli ho detto fermati vai in modalità passo passo quando ho cliccato su incrementa lui mi ha bloccato dicendo ok questo è il codice che sta eseguendo e andiamo avanti passo passo a vedere cosa succede entro nella funzione premuto vedo qua fai questa chiamata vediamo la variabile input input display cal 0 cosa mi da sì mi da il nodo di input direi questa variabile input ma qui a destra sto vedendo le variabili del codice javascript vediamo se il node name è proprio quello giusto node name input quindi l'ha beccata no? quindi questa funziona l'ha fatta senza errore non è qua l'errore quindi chiudiamo questo valore uguale input punto value andiamo avanti di un passo quanto vale valore? 0 0 più più ecco l'ho cosa posso aver sbagliato? value adesso vale valore vale ah sono tirla io ho scritto value anziché valore ho sbagliato il nome della variabile vabbè è stato ancora facile ecco lì lui non eseguiva questa istruzione perché trovava una variabile non definita e quindi si fermava adesso vediamo un po' se ricarichiamo la pagina ricarichiamo la pagina e adesso funziona e purtroppo javascript è così non funziona e non ti da nessun messaggio di errore da nessuna parte che ti dica cosa c'è che non ha funzionato proprio perché il linguaggio è così ha queste caratteristiche di non poter essere controllabile questa non era un errore di sintassi era di fatto una variabile un errore di scrittura nel nome della variabile che viene interpretata come una creazione di una variabile nuova e vabbè e questa variabile nuova casualmente aveva valore proprio 0 e quindi io vedevo che non cambiava nulla ma non è che non cambiasse nulla veniva sovrascritto lo 0 con un 0 nuovo però a posteriori è facile altre cose che possiamo fare possiamo decidere che a certo punto questa calcolatrice quando arriva a 10 facciamo una cosa inutile ma tanto per giocare un pochino scompare il titolo calcolatrice lo nascondiamo come facciamo a far comparire e scomparire un elemento? giochiamo sull'attributo display del CSS dove sono gli attributi del CSS? ma sono facili perché se io prendo questo H1 ma tutti gli elementi hanno due attributi o meglio un attributo che si chiama style che è di fatto una stringa sapete che in ogni elemento in HTML possiamo scrivere style uguale aperti virgolette e definire lo stile di quell'elemento lì nello specifico la stessa cosa è ribaltata dentro il DOM del documento e quindi abbiamo l'elemento punto style uguale aperti virgolette lì dentro possiamo scrivere CSS ma ancora meglio l'attributo style lo posso trattare come stringa ma lo posso trattare a sua volta con una serie di sotto attributi adesso questi qua tutti i mod sono quelli specifici di Firefox che non ci interessano ma tutti gli attributi dei CSS sono disponibili come proprietà separate e indipendenti quindi in questo caso potremmo dire che se poi abbiamo detto se il valore poi è maggiore di 10 perché è una cosa utile nascondi il titolo l'H1 no? allora nascondi il titolo cosa vuol dire? di nuovo la stessa operazione devo trovare ottenere l'elemento HTML che contiene l'H1 e poi modificarne le proprietà allora nascondi il titolo var titolo uguale document punto get element by tag name di H1 chiamiamolo titoli mi faccio restituire tutti gli H1 della pagina tutti e poi da questi prendo il primo in questo caso sono fortunato perché so che ce n'è uno solo var titolo uguale titoli di 0 poi le cose fatte bene dovrei verificare che titoli punto length visto che è un array sia esattamente uguale a 1 e se no bloccarmi perché c'è qualcosa che non va a questo punto una volta che ho il titolo è ricordiamo che questi qui sono tutti oggetti DOM sono tutti riferimenti a oggetti del DOM ok? e una volta che ce l'ho titolo punto style punto display uguale none modifico in realtà appunto nel DOM sarebbe tutto più complicato perché dovrei andare a prendere addirittura dovrei in questo caso questo elemento non ha nessun attributo di tipo style quindi dovrei creare un nuovo attributo agganciarlo ad un nodo sarebbe un lavoro abbastanza pesante di creazione di nuovi sottonodi ma per fortuna ci sono le semplificazioni che ci danno le proprietà iniettate dal browser e quindi lavoriamo in modo abbastanza semplice quindi vediamo se funziona perché la parola funziona sempre tutto incrementa ok la prossima volta che clicco incrementa dovrebbe spero scomparire questa cosa sì e poi andiamo avanti non fa più altro la logica è sempre la stessa la logica è sempre la stessa io ho provato a riassumerla in questo diagramma che c'è qui c'è un oggetto html l'utente tutto parte sempre dall'utente con pochissime eccezioni e le eccezioni sono solamente due azioni che possono partire scattare autonomamente senza bisogno dell'utente uno è l'onload del documento quindi quando il body si è caricato quindi questo è il browser che lo sa non è l'utente che fa qualcosa e due quando se volessimo impostare dei timer sono dei timer all'interno di javascript che dicono che ogni secondo ogni 5 secondi fai una certa cosa ma a parte questi due eventi che sono scatenati dal sistema tutti gli altri eventi sono sempre scatenati dall'utente che fa qualcosa su un elemento html quindi l'azione dell'utente su un elemento della pagina crea un evento html questo evento a questo evento html possiamo associare una funzione gestore di evento un event handler la funzione che gestisce questo evento a tutta questa cosa qui questi tre primi blocchi si riassumono mettendo long click, on load, on over, on quello che voglio nel posto giusto e da questo punto in avanti comincia la vera implementazione della funzione javascript che normalmente farà sempre queste due cose trova gli oggetti che gli servono e per trovarli userà document.getelement o getelements by tag, by name, by id, by class eccetera eccetera le funzioni di ricerca offerte dal document e volendo o dovendo la navigazione cioè io potrei dire ma io ho trovato magari un div ma non devo modificare la proprietà del div bensì devo modificare la proprietà del secondo paragrafo che sono dentro il div che è dentro il div allora chiedo al document di darmi il div controllo che abbia la classe o lì di giusto e poi vado a prendere i figli di quel div e vado a prendere il secondo figlio controllo che sia un P e lo modifico però è estremamente delicato lavorare in questo modo perché uno spazio in più o in meno ti aggiunge un elemento di tipo testo vuoto in mezzo allora quello che pensai che fosse secondo figlio è in realtà il terzo posto perché c'è uno spazio ma fare barra P a capo P e fare barra P e P subito nel paragrafo nuovo attaccato senza spazio in mezzo è diverso perché nel primo caso c'è un barra P un nodo di tipo testo che contiene solamente la capo e poi un altro P che lo apre nell'altro caso non c'è questo nodo in mezzo quindi andare a navigare con quelle proprietà children nodes che abbiamo visto prima è estremamente pericoloso da codice perché dipende in modo estremamente congelato da una struttura dell'HTML che deve essere esattamente così fino nei minimi dettagli e quindi crea una dipendenza troppo forte, difficilissima da mantenere e per cui non si usa quasi mai si cerca di arrivare direttamente all'elemento giusto poi lunedì impareremo un modo invece cento volte più semplice di fare le stesse cose usando la libreria jQuery che è molto più furba e ci permette di esprimere il terzo P qui all'interno del secondo div usando la sintesi dei CSS perché i CSS poi fanno quello posso andare a prendere in un modo molto più intelligente che non andare a navigarmelo nel DOM e la libreria jQuery ci permette di fare questo è molto alto ma per ora il concetto è sempre lo stesso devo trovare l'elemento che mi serve tipicamente devo leggere qualche proprietà di quell'elemento adesso è visualizzato, non è visualizzato vale 3, vale 7, cosa c'è scritto l'utente dentro e poi eventualmente modificarlo qui ho detto la cosa semplice modificare le proprietà di un oggetto ma in realtà potrebbe essere qualcosa di più complicato aggiungi oggetti, nascondeli, cancellali posso fare ciò che voglio ma lo schema grossomodo è lo stesso quando dico leggi proprietà dell'oggetto è perché effettivamente qui nella mia adesso ricarico la pagina se l'utente scrive 88 lui parte da lì e va avanti 88, 89, 90 eccetera eccetera quindi non è un suo lui non parte sempre da zero la funzione come prima cosa deve andare a vedere che cosa ha fatto l'utente sulla pagina adesso questo qua c'è un numero ma se io scrivessi una stringa usa la stringa poi quando cerco di incrementarla si arrabbia e mi dice nota number non è un numero ho cercato di fare il più più di pippo come stringa non si moltiplica per due pippo però questo vuol dire visto che questo è un campo di input quando l'utente riempie dei form io riesco in tempo reale a sapere che ora sta scrivendo lui in questo momento è l'on click ma il modo normale di lavorare quando l'utente scrive agganciarsi all'evento on key press quindi ogni volta che lui preme un tasto lì dentro io mi faccio chiamare una funzione che può andare a analizzare ciò che lui ha venendo a prendere il value ciò che lui ha appena scritto in quel distante ok questo è il modo di lavorare per carità con gli elementi minimi che abbiamo perché del linguaggio abbiamo solo proprio e anche del DOM abbiamo toccato gli elementi minimi indispensabili per poter fare questo esempio non è il pietto poi quando andiamo avanti vedremo che le cose possono essere più sofisticate più complicate io però oltre al fatto che abbiamo finito il tempo ma il passaggio che vogliamo fare è di non complicare troppo i programmi lavorando direttamente in javascript perché per cose un po' complicate diventa estremamente pesante ma pensate di avere non so un elenco di voci un L una lista che contiene 30 voci e tu devi che ne so selezionare una sì una no a righe alterne e fargli qualche cosa e i codici sono paginate paginate di codici estremamente delicati che va a navigare al padre al figlio eccetera perché tu hai l'UL poi c'è l'LI poi c'è il testo interno ci sono gli attributi eccetera quello che faremo lunedì non lunedì quando ci vediamo? mercoledì sarà di vedere la libreria jQuery che è una libreria javascript che ci permette di semplificare enormemente queste tre scatole qua sia trovare oggetti per cui senza andare a impazzire con i metodi di basso livello di navigazione del DOM la libreria jQuery ci permette di specificare una stringa simile a quella del CSS del settore CSS simile ma più furba e da solo mi va a cercare tutti gli elementi che corrispondono a quella specifica quindi per trovare oggetti significa anziché fare 5 o 6 istruzioni significa scrivere 6 caratteri e così anche per modificare leggere o modificare le proprietà ha tutta una serie di metodi di proprietà aggiuntive che sono molto più comodi da utilizzare e quindi impareremo direttamente a lavorare con la libreria jQuery e non direttamente e non solamente in JavaScript di base il concetto è sempre lo stesso ma semplicemente all'oggetto document e agli oggetti element quindi agli oggetti del DOM la libreria jQuery aggiunge un mucchio di altre funzionalità in più e quindi ci renderà più facile lavorare il concetto base è lo stesso il modo di lavorare è più semplice però oggi non potevo farvi tutto quindi dovete aspettare fino a mercoledì e se volete potete divertirvi a fare qualche operazione ad esempio sulle varie esercitazioni in cui si faceva il login alla registrazione può essere interessante andare a intercettare l'evento submit per controllare il form eventualmente visualizzare mostrare o nascondere un messaggio d'errore a seconda che ci siano i campi scritti oppure no correttamente fatto con questo modo con questo modo di lavorare ok?